Buongiorno, ben trovati, appuntamento di mattino 6. Il primo della settimana di lunedì 18 luglio 2016. Apriamo come sempre nel ricordare il santo del giorno che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica. Si tratta di San Federico di Utrecht, vescovo della città olandese dall'820 sino alla sua morte. Nipote del re dei Frisi, Radbodo, fu ordinato prete della diocesi di Utrecht e fu incaricato dell'educazione dei catecumeni. Succedette nell'episcopato al vescovo Rick Frido e si occupò del completamento dell'evangelizzazione dei Frisi, della quale incaricò anche Santo Dulfo, che fu anche consigliere dell'imperatore Ludovico il Pio. Secondo una tradizione, San Federico di Utrecht fu assassinato mentre celebrava la messa da sicari dell'imperatrice Giuditta di Baviera, seconda moglie di Ludovico, di cui aveva pubblicamente condannato i costumi per altri. Invece fu ucciso dai pagani dell'isola zelandese di Velkeren, che si opponevano alla sua missione e per questo è venerato proprio dalla Chiesa Cattolica anche come martire. Dunque San Federico di Utrecht, ricordato oggi, lo vedete nella foto, dalla Chiesa Cattolica il 18 luglio. Noi apriamo la nostra rassegna stampa come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani, vediamo le prime pagine delle quattro edizioni del centro, partiamo dall'edizione di Pescara, la prima pagina che come le altre purtroppo si apre con il titolo a tutta pagina sull'ennesima strage che ha riguardato ieri le nostre strade. Due giovani vastesi sono morti in un incidente stradale accaduto proprio al confine tra l'Abruzzo ed il Molise. Vedete proprio questa fotonotizia, vedete i due giovani morti in questo terribile incidente stradale. E poi il titolo in alto che riguarda in questo caso invece la cronaca a Pescara, picchiato per gioco, giovane in ospedale in gravi condizioni, pugni in faccia sulla strada parco, caccia agli autori dell'agguato. Poi vediamo anche le altre notizie, lancio nel vuoto, resta impigliata e shock a Salle in provincia di Pescara, è accaduto mentre stava praticando il jumping e poi sempre a Pescara asili pochi posti, metà dei bimbi rimane fuori. E poi lo sport, la bella favola di Vincenzo Albanese che ha trionfato al Matteotti. Ieri è stata la giornata del trofeo Matteotti con la vittoria del ventenne atleta di origine campana che correva con la maglia della Nazionale Azzurra. E poi come detto, vedete il titolo che vi dicevo, schianto muoiono due amici, Andrea Calciatore, Domenico Studente, l'incidente è avvenuto, è accaduto sulla strada statale 16 Adriatica, proprio al confine tra Abruzzo e Molise. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere ovviamente le altre edizioni. Proseguiamo con l'edizione di Chieti-Lanciano-Basto, in questo caso il titolo è proprio tutto dedicato a questo incidente stradale. Sono morti straziati dal guardrail Montenero di Bisaccia, incidente avvenuto al confine tra Abruzzo e Molise, ma in territorio molisano, proprio del comune di Montenero di Bisaccia. I due morti hanno 21 e 22 anni. L'auto, come dicevamo, è stata sventrata dal guardrail, il conducente di questa macchina, rimasto ferito, verrà indagato dagli organi inquirenti, così come prevedono le nuove disposizioni. Vediamo anche gli altri titoli che riguardano la provincia di Chieti. Dopo le piogge, dopo il maltempo, Strada Calvona torna l'incubo della Frana, e poi a Lanciano scuole accorpate, il Detitta ed il Fermi, mille studenti in un solo istituto. E poi il calcio di Serie D, in questo caso si parla del Chieti, Chieti verso il Baratro, niente iscrizione al torneo, ma ci sono dieci giorni di tempo per sistemare le cose, anche perché la società Nero Verde è in vendita. Vedremo cosa accadrà. Lasciamo l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, la prima pagina del Quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere il titolo che riguarda l'edizione di Teramo. Poi, come di consueto, chiuderemo con quella che riguarda l'Aquila Vezzano sul Mona, l'edizione di Teramo del Centro. Anche in questo caso, ovviamente, lo dicevamo in tutte le edizioni, il titolo principale riguarda questo ennesimo incidente stradale. Vediamo gli altri titoli, in questo caso, che riguardano la provincia di Teramo. Altri 25 profughi via dal Residence di Roseto andranno a Civitella del Tronto. Poi i danni del maltempo. La Regione promette aiuti a Pineto, che ha dichiarato lo stato di emergenza e calamità per i danni del maltempo. E poi a Teramo, 500 penne nere, in questo caso in provincia di Teramo, a Torricella Sicura, per il raduno degli Alpini. E poi un altro titolo che riguarda le banche, Tercas. Ora resta solo il nome, oggi si completa l'integrazione nella banca popolare di Bari, che ha assorbito proprio lo storico istituto bancario Teramano. E chiudiamo con la prima pagina del Centro, come detto, edizione di L'Aquila, Avezzano e Sul Mona. Poi andremo a vedere anche dei titoli che riguardano i principali quotidiani nazionali e sportivi, sia nazionali ma anche quelli sportivi, oggi in edicola. Vediamo l'edizione, la prima pagina dell'edizione dell'Aquila del Centro. Oltre al titolo che riguarda l'incidente stradale, ce ne sono degli altri che riguardano proprio l'Aquila e provincia. Affitti da pagare, la provincia corre ai ripari, 2 milioni di euro. Parliamo della provincia dell'Aquila. Poi Sul Mona, negozi aperti la domenica contro la crisi. Questa è l'iniziativa che riguarda gli operatori commerciali della città Pelinia. Poi ad Avezzano domani torna il Doppio Senso in Via Roma. Poi ancora all'Aquila, geometra rapinato, 5 persone nei guai. Questi titoli della prima pagina dell'edizione del Centro di L'Aquila, Avezzano e Sul Mona. Noi lasciamo per il momento i giornali locali. Poi andremo a vedere anche il messaggero nel suo inserto Abruzzo. Ma come vi dicevo, andiamo a dare uno sguardo invece ai quotidiani nazionali. Oggi in edicola, tra l'altro vi ricordo che essendo lunedì, non è oggi in edicola il quotidiano La Città di Teramo. Allora partiamo da Repubblica. Stati Uniti e altri tre agenti uccisi. Trump contro Obama. Prosegue questa incredibile escalation di violenza negli Stati Uniti. Si registrano purtroppo altre morti proprio nel paese americano, negli Stati Uniti. E poi sei dispersi italiani, il calvario dei parenti, si parla della tragedia di Nizza. Il killer fu guidato. Ci sono sette fermi. Dunque proseguono ovviamente le indagini per chiarire quanto accaduto a Nizza, dove ricordiamo ci sono stati oltre 80 morti, 200 feriti e ci sono degli italiani dispersi. Poi vediamo anche il titolo che riguarda di spalla la Turchia. Turchia-America, alta tensione, Erdogan piance ed evoca la pena di morte. Ricorderete due giorni fa il tentato, fallito golpe, che ha riguardato proprio la Turchia. Andiamo avanti. Siamo al Corriere della Sera. La polizia americana sotto attacco. Tre vittime in una sparatoria. Il presidente Obama dice restiamo uniti. Faremo giustizia e poi in alto migliaia di militari e di giudici agli arresti. Siamo in Turchia. Erdogan dice non escludo la pena capitale. Dunque alta tensione in Turchia dopo il tentato e fallito golpe da parte di alcuni militari. Siamo al quotidiano. La stampa di Torino, la fotonotizia con il titolo di apertura riguarda proprio la situazione in Turchia. Erdogan dice l'America dietro i colpisti. Dunque alta tensione fra la Turchia e gli Stati Uniti. Ricordiamo che la Turchia è un paese membro, tra l'altro, della Nato. E poi di spalla l'articolo che riguarda invece l'alta tensione che si sta vivendo in queste ore invece negli Stati Uniti. Uccisi tre agenti. L'ombra della violenza sulle elezioni americane. Poi in basso migranti, il piano del governo, più fondi ai comuni. Siamo al quotidiano, il tempo di Roma. Fate come noi ebrei. Difendetevi così. Il capo della comunità ebraica dice sfruttate la paura. Utilizzate i milioni di occhi come sentinelle. Gli imam contattati dal tempo non condannano gli attentati e attaccano i media. Si parla ovviamente dell'attentato di Nizza. E poi una notizia che riguarda invece in particolare Roma. Il problema della pulizia della città. I cinghiali avanzano. Non ci resta che Obelix. Questa è la foto di centropagina del tempo. Siamo al fatto quotidiano. La Boschi del Ira. Nuova carta per combattere il terrorismo. Ennesima sparata. Leggiamo qui dal titolo del fatto quotidiano. Votare sì al referendum per avere un'Italia più sicura. Tra l'altro, il ministro Boschi, ospite sabato scorso al comune di Pescara, a Palazzo di Città, per partecipare proprio ad una convention per il sì al referendum. Vediamo in alto altri due titoli che riguardano i fatti più importanti trattati proprio negli ultimi giorni. Autogolpe di Erdogan. In galera pure i giudici. Dunque, mano dura del governo turco. E poi Nizza. Blitz degli agenti. Sgomina un vecchietto. Dunque un po' un titolo ironico da parte del fatto quotidiano. Siamo invece all'altro giornale di area centrodestra libero. Il piano antiterrorismo di Alfano. L'immigrazione una bomba. Poliziotti super armati sempre. Il leader di NCD ed ex del Fino del Cavaliere. Fa un appello a tutto il centrodestra. La battuta sul quid mi ha danneggiato. Ma avevo ragione. Io ce l'ho. Forza Italia ora mi segua. E poi la rete dei complici dell'assassino di Nizza. Vedete più in basso c'è la foto del presunto autore di questa strage. E vedete che si lavora perché ci sono delle persone già arrestate che avrebbero aiutato questo giovane di origine nordafricana a compiere questo terribile attentato nella piazza principale di Nizza. Siamo al quotidiano la Gazzetta del Mezzogiorno. Vedete sopra luogo e soldi per il killer di Nizza. Anche in questo caso si parla dell'attentato in Francia. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno ovviamente torna sull'altro fatto tragico. Accaduto qualche giorno fa l'incidente terribile fra i due treni proprio nei pressi di Andria. Pellegrinaggio al cimitero. Ad Andria, folla davanti alle bare. Dimesso il piccolo Samuele. è uno dei bambini rimasti feriti. E intanto i PM sono al lavoro sugli orari dei convogli. Slittano però gli interrogatori. Proseguiamo. Siamo al secolo XIX. In questo caso il giornale di Genova. Migranti. Il piano di Alfano. Non più di 3.000 abitanti. Più fondi ai comuni che accolgono. E poi Nizza una strage da 100.000 euro. Il killer ha spedito la somma alla famiglia in Turchia alla vigilia del folle raid. E poi il gazzettino di Venezia. Turchia è scontro con Obama. Lo abbiamo visto anche dagli altri quotidiani. Intanto durissima la repressione. Oltre 6.000. Gli arresti. Ancora conflitti a fuoco all'aeroporto. Dunque, attenzione che non si abbassa in Turchia. Siamo al quotidiano L'Unità. La tragedia americana. Dopo la strage di Dallas. Ieri fuoco contro la polizia in Louisiana. Tre agenti morti e quattro feriti. Vedete le lacrime. In questo caso però riguardano un'altra vicenda. Quella che si è verificata in Turchia. Le lacrime del sultano. In questo caso è scritto nell'articolo. E Erdogan che parla e si commuove. Ricordando proprio quanto accaduto pochi giorni fa. E poi inizia. Strage preparata dal killer. 100.000 euro in Turchia. L'abbiamo visto anche dagli altri giornali. Allora andiamo a vedere in questo caso anche i titoli. Prima di tornare ai quotidiani di casa nostra. Andiamo a vedere i titoli dei tre giornali sportivi. Tre quotidiani sportivi oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Il discorso del re. Parla il The King. Il re appunto Claudio Ranieri. Vincitore dello scudetto della Premier League. Il mio Leicester deve ripartire da zero. Verdi ha fatto una scelta. La Gigi Riva. Conte il Chelsea. Fatti per piacersi. Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico romano. Della formazione inglese. Che ovviamente come vincitrice del campionato parteciperà alla Champions League. E poi in alto l'argomento che tiene banco da alcune ore. Iguain Dei parte l'assalto della Juventus. Il Napoli ripensa a Milik. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport. Inter e Milan sveglia. Il Corriere dello Sport parla del mercato piuttosto deludente fino a questo momento delle due milanesi. Milan che tra l'altro ha portato a termine una sola vera operazione. Accaparrandosi le prestazioni di Gianluca Lapadula. Ex bomber del Pescara e del campionato di Serie B. In alto Iguain e Il Giorno perché come detto partirà oggi l'assalto al giocatore del Napoli da parte dei bianconeri. E chiudiamo con tutto sport. Nessuno segna come i bomber di Napoli e Juventus. Questo è il titolo principale. In alto fratelli del gol. Iguain e Di Bala sembrano nati per giocare insieme. Chissà se nella prossima stagione giocheranno insieme. L'ultimo titolo riguarda il Torino che ovviamente è un argomento privilegiato del quotidiano tutto sport. Avanti Toro, Val di Fiori. Dunque potrebbe approdare a Torino Sponda Granata il giocatore, il centrocampista Val di Fiori. Lasciamo dunque anche i quotidiani sportivi nazionali. Possiamo tornare insieme a vedere i giornali di casa nostra. Ripartiamo ora dal messaggero. Lo faremo tra qualche istante per andare a vedere i titoli che riguardano l'Abruzzo, nell'inserto Abruzzo proprio del quotidiano romano. E poi come sempre alle 7.20 avremo il tradizionale appuntamento. Dunque tra qualche istante, tra qualche minuto con il nostro Giovanni De Palma per vedere quali sono le previsioni per le prossime ore e per i prossimi giorni, previsioni del tempo che riguardano la nostra regione. Allora siamo al messaggero schianto uccisi dal guardrail. Il titolo principale anche del messaggero riguarda quest'incidente accaduto all'alba di ieri. Vasto incidente al ritorno dalla serata in un locale. Le vittime sono due amici di 22 anni. Indagato il ragazzo alla guida dell'auto, positivo all'alcol test. In ospedale, leggiamo qui dal titolo del messaggero, voleva suicidarsi. E poi il maltempo. Bomba d'acqua su Pineto. I danni sono arrivati a 1.400.000 euro. E poi Gemi, il campione in carrozzina, sfuggito al golpe da Istanbul e tornato a Giulianova, dice giorni da incubo. Vediamo anche dei titoli che sono trattati all'interno del giornale, violenti. Pescara botte al parco Sabucchi, torna l'incubo del knockout game accaduto a Pescara. Poi Giulianova ginocchiata al controllore dell'autobus. Ancora problemi sui pullman per i controllori dei mezzi pubblici. E poi lo sport. Pescara, il giorno di Ghiomber. Forse oggi la firma del difensore. Andiamo in basso per vedere questo titolo che riguarda le banche. Caripe diventa bianco-rossa perché, come la Tercas, anche Caripe è stata assorbita dal gruppo della Banca Popolare di Bari. Allora proseguiamo con le altre pagine del messaggero. Sempre cronaca Abruzzo, schianto, morti due ragazzi, indagato l'amico. Ovviamente si parla in questo articolo dell'incidente di ieri. Quattro amici di Vasto tornavano da una serata in un locale. L'incidente sulla strada statale 16 al confine Fra Molise ed Abruzzo, Andrea Marinelli e Domenico Castrignano, trafitti dal guardrail, ricoverato il giovane alla guida e risultato positivo all'alcol test. Poi c'è questa notizia che riguarda questo fatto perché Antonio, uno dei due ragazzi morti, è il figlio del maresciallo della caserma dei carabinieri. Antonio Castrignano era andato a rilevare il sinistro. Lo vedete, leggiamo qui nel risvolto di questo articolo, a rilevare il sinistro senza sapere chi fossero le persone coinvolte. Vedete il comandante della stazione Vastese dei carabinieri e il padre di una delle vittime. Dunque una tragedia nella tragedia, quella di un padre che per lavoro è andato proprio a rilevare questo incidente, senza sapere che tra le vittime c'era proprio il figlio. E poi c'è la storia di questi due ragazzi, chi erano il calciatore ed il geologo, un legave speciale al punto che alla cresima l'uno aveva fatto da padrino all'altro. Dunque due ragazzi amici nella vita e che purtroppo sono andati via insieme in questo terribile incidente stradale. Andiamo ancora avanti, siamo arrivati alle pagine della cronaca di Pescara del Messaggero. Allora prima di parlare di meteo con Giovanni De Palma abbiamo il tempo di leggere proprio i titoli di questa prima pagina. Poi avremo il nostro meteorologo, la caripe diventa bianco-rossa, impiegati, trasferiti. Dunque la caripe approda ufficialmente nel gruppo della Banca Popolare di Bari, installate le nuove insegne con i colori della Popolare di Bari, uniformato il sistema tecnico in tutto il gruppo, Tercas incluso, lo abbiamo visto dall'edizione di Teramo del centro. E poi la cronaca, sempre a Pescara, torna l'incubo del Knota Game, trentenne aggredito nella notte. E poi Baby Gang, tre ragazzini a processo per la rapina ad un'anziana. Questi i titoli che riguardano la pagina di Pescara del Messaggero, allora sono le 7.20, possiamo dunque aprire il nostro consueto spazio dedicato al meteo e come sempre lo facciamo con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, inizia una nuova settimana, ovviamente ci avviciniamo al periodo che è riservato per eccellenza alle ferie, alle vacanze, dopo i disastri, così possiamo dire, lo abbiamo visto anche dai titoli dei nostri quotidiani, che ha fatto il maltempo, i danni del maltempo della scorsa settimana, del fine settimana passato. È tornato il bel tempo, questa mattina c'è il sole, cielo limpido, ovviamente temperature destinate a risalire, questa mattina fa piuttosto fresco, ma ovviamente non sarà così per il resto della giornata. Per quanto riguarda invece l'evoluzione del meteo, cosa dobbiamo attenderci per le prossime ore? Paolo, come hai detto giustamente tu, la situazione è migliorata ed è in ulteriore miglioramento, perché sulla nostra penisola è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione che nei prossimi giorni favorirà anche un progressivo aumento delle temperature, oltre che un miglioramento del tempo. Quindi oggi avremo su tutta la regione condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con clima gradevole, caldo non caratterizzato dall'AFA, non c'è l'AFA in questo momento, le temperature però sono previste in ulteriore aumento, così sarà anche nella giornata di domani, anche se è previsto un ulteriore aumento delle temperature, ancora per il momento la nostra penisola, la nostra regione non sarà interessata dal caldo a foso, però i valori tenderanno progressivamente ad aumentare, Paolo, nel corso dei prossimi giorni e probabilmente verso giovedì, venerdì, i valori torneranno ad essere quelli che eravamo abituati ad assistere nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, quindi temperatura di sopra dei 30 gradi, anche qui però giungerà un aumento dei tassi di umidità, assisteremo a un aumento dei tassi di umidità, quindi tornerà il caldo a foso, ma al momento non si prevedono sostanziali variazioni, se non un possibile disturbo nel fine settimana, la cui entità però andrà ancora valutata, perché si tratta comunque di una tendenza da confermare, perché potrebbe passare la coda di una perturbazione sulle regioni centro-settentrionali e favorire un aumento dell'instabilità nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza ancora da verificare. Per il resto, ripeto, bel tempo per gran parte della settimana, con temperature in progressivo aumento. Dunque Giovanni, prima di chiudere possiamo dire che è tornato il bel tempo e probabilmente questo bel tempo potrebbe accompagnarci per diversi giorni, possiamo dire anche per qualche settimana, anche se tu ci hai sempre detto che andare oltre le 48 ore per le previsioni è sicuramente difficile. Ma sì, diciamo che almeno per gran parte della settimana, Paolo, non dovrebbero esserci sostanziali variazioni, avremo l'alta pressione che continuerà a interessare la nostra penisola, tuttavia io noto che comunque ci sono correnti atlantiche piuttosto vivaci, che insomma sull'Europa centrale e sulle isole britanniche continuano ad essere a favorire l'arrivo di perturbazioni, insomma siamo piuttosto vicini a questo tipo di circolazione, quindi insomma non escludo che poi più in là potrebbero farci visita, quindi per il momento però tutto ciò è scognurato perché l'alta pressione ci proteggerà dall'arrivo di perturbazioni, però non è possibile sapere fino a quando, ecco, quello che possiamo vedere noi con i nostri mezzi attuali, insomma è che almeno fino a venerdì non ci dovrebbero essere particolari sostanziali variazioni, avremo tempo stabile, prevalentemente soleggiato, tutt'al più qualche addensamento sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata, ma soprattutto tra mercoledì e venerdì. Per il resto, ripeto, bel tempo e temperature in aumento. Grazie, grazie a Giovanni De Palma, dunque godiamoci queste giornate di bel tempo, io ringrazio il nostro meteorologo, l'appuntamento con te Giovanni è per domani, sempre intorno alle 7.20 del corso di Mattino 6, buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma per restare sempre informati, vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui inquadrato con tutte le notizie in tempo reale aggiornate proprio sull'evoluzione del tempo e sulle previsioni che riguardano la nostra regione, poi anche la pagina Facebook del nostro meteorologo, eccola qui inquadrata, altro utile strumento per interagire con il nostro Giovanni De Palma. Noi torniamo ai nostri quotidiani, in questo caso eravamo alle pagine della cronaca provinciale del Messaggero, avevamo visto la pagina di Pescara, proseguiamo, siamo alla pagina dell'Aquila, scuole riparate finora la metà restano da fare, 26 plessi, sono ancora 3.700 gli studenti, si legge in questo articolo, ospitati nei moduli a uso scolastico, provvisori spesi fino ad ora 36 milioni, il 10,9% delle opere terminate già appaltate o in fase di gara per 25 milioni. E poi l'evento Cantieri Immaginario, c'è Massimo Lopez, noto attore cabarettista proprio per questo evento, e poi lavori di ristrutturazione, chiude la cantina del Boss, stop per 5 o per 6 mesi, a rischio la tradizione dell'aperitivo di Natale. Andiamo avanti, siamo alla pagina che riguarda Avezzano e Sulmona. Partiamo da Avezzano, novità per la mobilità cittadina, lungo via Roma, da domani torna il doppio senso. Sempre ad Avezzano, nel masterplan della regione, fondi per il Parco dell'Arsa, e poi per la cronaca, due agenti del carcere di Avezzano sono stati trasferiti all'Aquila. Il sindacato protesta e proclama lo stato di agitazione del personale. Da Avezzano ci spostiamo in Valle Peligna, a Sulmona, con mountain jazz, musica ad alta quota per il decennale di questa manifestazione, previsti 22 concerti in nove paesi del circondario Peligno, con anche le classiche escursioni, sempre a Sulmona, abbazia celestiniana e di scena la Tosca, partecipazione di ben 100 persone sul palco tra protagonisti di fama mondiale. Ancora Sulmona, Mobast, Capaldo lancia la rivolta per l'ospedale, annunciata per mercoledì prossimo una manifestazione di protesta in regione. E a proposito di sanità, tagli al presidio ospedaliero, protesta il comitato a Tagliacozzo. E siamo alla pagina di Chieti del messaggero Colle Marconi e Emergenza. Ad un anno dal ruogo dei rifiuti, nessuna bonifica, vento e pioggia, aumentano i rischi di contaminazione, l'area di nuovo utilizzata come discarica abusiva. Ignorate le ordinanze comunali. E poi, riapro lo stellario, il rilancio della Dibiase, la risposta dell'assessore alla richiesta di dimissioni per l'assenza del cartellone estivo. E poi, a Lanciano, sciopero e straordinario guerra di cifre alla Sevel. Vasto San Salvo, turista bolognese, rischia di annegare. E poi, ad Ortona, finalmente le strade danno i numeri in interi quartieri e frazioni ancora privi di numerazione civica, stanziati 200 mila euro. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Teramo del messaggero, Teramo e Teramo provincia. In questo caso, Ruzzo, i sindaci incalzano Forlini, stop all'aumento delle tariffe. Questo l'invito dopo la conferma a Presidente. L'obiettivo è quello di tagliare i costi e di intervenire sul personale. E poi Giulianova, bus, nuova aggressione, ginocchiata ad un controllore denunciato dai carabinieri Buttafuori di Colore, che non voleva pagare il biglietto. Ricorderete qualche due settimane fa l'aggressione ad un altro controllore, sempre sulla linea della tua Giulianova Pescara. In quel caso andò sicuramente peggio al controllore, che fu anche medicato per le ferite riportate. E poi sviluppo, progetto intra-industriali a confronto. E poi cinema, il premio Roseto a Mainetti per Gig Robo. E poi andiamo in basso per vedere la cronaca. In questo caso giù dal ponte salvato dopo un volo di 30 metri. La vegetazione attenua la caduta dell'anziano, che si è lanciato dal viadotto dell'autostrada. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dunque possiamo fermarci per tornare al quotidiano Il Centro. E anche in questo caso per andare a vedere insieme le pagine di cronaca provinciale. Ma prima ci fermiamo per qualche istante. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo alle pagine di cronaca dalle province del centro. Partiamo dalla cronaca di Pescara, cronaca nera in questo caso. Knock out game sulla strada Parco, preso a pugni per scommessa e grave. Il 38enne ricoverato in ospedale. Il racconto dell'amico. Stavamo andando a piedi alla lampara. Una cosa allucinante. E poi resta sospesa nel vuoto mentre fa jumping. Salle, ragazza di Spoltoro è recuperata dal soccorso alpino. E trasportata in ospedale dal 118. E poi andiamo avanti. Sempre Pescara. Pochi posti negli asili. Comune lascia fuori metà dei bambini. E poi spiagge. Arriva la proroga dei balneatori. Pronta la legge per bloccare la messa all'asta degli arenini. Le associazioni chiedono uno sconto sulle tasse arretrate. Intanto, cambiando argomento, Forza Italia chiede invece un'indagine sulla moschea di via a Pisa a Pescara. A chiederlo soprattutto il consigliere comunale di Forza Italia, Dincecco. Andiamo avanti. Arrosticini e vino, aspettando il trofeo e la festa della città. Questa pagina con corredo di foto dedicata alle manifestazioni. Ci sono state manifestazioni di affetto per il trofeo Matteotti. Proprio durante la gara che si è corsa ieri a Pescara, lungo il percorso della storica corsa ciclistica. Tavole imbandite e comitive di amici a tifare atleti e squadre abruzzesi. Non sono mancati gli arrosticini come da tradizione. Montesilvano, città blindata, fiera e corsa, traffico in tilt. Siamo a Montesilvano, mattinata da incubo per le chiusure della Nazionale e della Riviera. Domenica prossima nuovi eventi e altri disagi in arrivo. Monta la protesta. Ancora Montesilvano, addio a Dafermo, il fondatore della Croce Rossa. Mentre in alto siamo a Francavilla, zone ancora senza acqua. Luciani lo scrive sulla sua pagina Facebook. E poi siamo in provincia di Pescara, Manoppello. I residenti dicono basta con il parroco disponibile part time. Siamo alla pagina dell'Aquila, del centro affitti passivi alle stelle. Provincia corre ai ripari. L'ente sta valutando una serie di alternative per la riduzione dei costi, tra le proposte avanzate, l'uso di Palazzo Betti e dell'ex Reis Romoli. E poi via 20 settembre imminente, la riapertura nei due sensi di marcia. E poi la cronaca, geometra rapinato, 5 persone sotto accusa, pronte le richieste di rinvio a giudizio per i sospettati dell'assalto alla villa del funzionario comunale. Siamo alla pagina di Teramo, del centro emigranti di successo, milionario a Barcellona con la porchetta abruzzese. La storia di questo imprenditore, partito dalla nostra regione, Ivan Danesi di Giulianova. Tre locali, due furgoncini ed un fatturato a 6-0. Era andato nella capitale catalana con la moglie per la procreazione assistita. Non è più tornato. Cellino Attanasio, Scorrano perde il parroco. I fedeli protestano. E poi siamo a Pineto per i danni riportati dal maltempo nel piccolo centro in provincia di Teramo. Parla il sottosegretario, la giunta regionale con delega all'ambiente, in questo caso alla protezione civile, Mario Mazzocca, che dice non lasceremo soli i pinetesi, il sottosegretario e il presidente D'Alfonso promettono un contributo per i danni del maltempo. Andiamo avanti. Siamo però arrivati alle pagine dello sport. Allora possiamo aprire proprio con il centro la pagina sportiva del consueto appuntamento di oggi con la rassegna stampa. Ma come ogni lunedì, grande spazio come d'altronde sui quotidiani allo sport. Partiamo dal trofeo Matteotti con la vittoria di Vincenzo Albanese che ha tagliato ieri il traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi. A braccia alzate la favola del debuttante, il 19enne dilettante, batte in volata Belletti e Vigano sul traguardo di Pescara. Tra l'altro Albanese prossimo a diventare professionista. E poi ancora ciclismo, Tour de France, in questo caso Aurici Prova, From the Friend il giallo. E ieri, quella di ieri è stata una giornata importante proprio per il trofeo Matteotti perché al termine della corsa a cui ha assistito il commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani che vedete nella foto, lo stesso Cassani ha comunicato i nomi dei ciclisti che rappresenteranno l'Italia, parteciperanno per l'Italia alle Olimpiadi di Rio de Janeiro che inizieranno tra due settimane. Dunque anche questo fatto, la presenza proprio di Cassani è andata ad impreziosire proprio l'edizione numero 69 del trofeo Matteotti. Cassani ha appunto detto nel corso della conferenza stampa tenuta ieri a Pescara che a rappresentare l'Italia a Rio saranno Fabio Auru, Damiano Caruso, Alessandro De Marchi, Vincenzo Nibali e Diego Rosa. Vincenzo Nibali sarà anche l'Atleta per l'Italia che farà la cronometro. Andiamo avanti, siamo al calcio, nella consueta doppia pagina del centro ci sono gli schieramenti, le squadre al momento che potrebbero essere quelle titolari che parteciperanno al prossimo campionato di serie. Andiamo a vedere il Pescara, andiamo a vedere quale potrebbe essere oggi lo schieramento del Pescara. Ovviamente bisogna considerare che manca più di un mese all'inizio del campionato e manca un mese anche al termine del mercato e dunque c'è ancora tempo per migliorare gli organici. Il Pescara ovviamente deve ancora completare la squadra, soprattutto con l'arrivo di un difensore centrale e soprattutto, scusate il gioco di parole, la ripetizione di una punta a una punta di peso. Allora vediamo qual è il Pescara ad oggi, Pescara della Serie A, 4-3-2-1, questo è il modulo caro a Massimo Oddo con Bizzarri in porta, in difesa Zampano, Campagnaro, Fornasiere e Biraghi per tre quarti e la difesa dello scorso anno con la novità di Biraghi al posto di Crescenzi. Centrocampo, Verre, Memushai confermati, la novità è cristante ma Verre è richiesto dalla Sampdoria e non è certo che possa rimanere a Pescara. Poi i due trequartisti sono Caprari e Benali, la punta al momento. Emanai, questo 19enne molto promettente. Scuola Inter. Andiamo avanti e siamo proprio alle pagine dedicate al Pescara. Vi dicevo, di Verre che è stato riscattato dalla formazione bianca-azzurra per 4 milioni di euro ma non è certo che il giocatore, il centrocampista resti a Pescara perché vedete anche qui dal titolo del centro, il futuro di Verre è un rebus. La mezzala piace alla Sampdoria ma il Delfino chiede almeno 6 milioni di euro. Intanto Cocco e Zuparic potrebbero passare al Frosinone, sicuramente Cocco ma probabilmente anche Zuparic visto che nel Pescara ci sarebbe abbondanza di difensori centrali considerando che dovrà arrivare un altro giocatore di peso proprio per quanto riguarda la difesa. E poi Oddo dice no al premio promozione. Il tecnico rinuncia a più di 100 mila euro che erano inseriti nel contratto firmato lo scorso anno per il proprio contratto che prevedeva un premio promozione. Pescara è stato ovviamente, lo sapete tutti, promosso in Serie A ma Oddo ha rinunciato ai 100 mila euro. Questo retroscena è stato svelato dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani mentre ai giocatori biancazzuri andranno 70 mila euro lordi e 35 mila euro lordi ai giocatori arrivati poi a gennaio. Poi una notizia, fiori d'arancio per Chiara Bancoschi, la figlia del vicepresidente del Pescara Gabriele Bancoschi che ieri si è sposata con Stefano Schinco. Auguri alla famiglia Bancoschi, a Chiara Bancoschi anche da parte della nostra redazione. Tra l'altro Chiara Bancoschi, presidente dell'Angolana Renato Curi, formazione che milita nel campionato regionale di eccellenza è anche responsabile del settore giovanile della caldora calcio. Andiamo avanti, ancora Pescara, Cristante. Pescara, la mia grande occasione, il 21enne, cresciuto nel Milan, ha rifiutato tante squadre per consacrarsi in Abruzzo. Nel 2014 il Benfica lo prese per 6 milioni di euro ma in Portogallo non trovò spazio, Cristante, che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane ai nostri microfoni. So che questa sarà una stagione fondamentale, ha detto Cristante, darò tutto per aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Sono fiducioso perché qui c'è un gruppo affiatato. Allegri, ha detto ancora Cristante, mi fece sordire in Champions League e in Serie A. Lui e Oddo somigliano molto, entrambi pretendono che la squadra tenga il pallino del gioco. E a proposito di gioco e di calcio giocato, il Pescara in ritiro a Palena e mercoledì prossimo alle 17 ci sarà la prima uscita ufficiale dei Biancazzurri che affronteranno proprio la formazione dilettantistica locale. L'inizio è previsto per le ore 17, il prezzo d'ingresso, il biglietto d'ingresso, costerà 5 euro. Ed intanto Levian Memushay, capitano del Pescara e della Nazionale Albanese, dopo il supplemento di vacanze proprio per gli impegni nei campionati europei, ha raggiunto i compagni in ritiro. Vitturini invece ancora no perché giocherà la semifinale dell'Europeo con l'Italia Under-19. Andiamo avanti e siamo alla pagina dedicata al Teramo. La carica dei tifosi spinge il Teramo in 100, si presentano con gli striccioni al ritiro di Ovindoli. Vedete nella foto di centropagina il tecnico Lamberto Zauli, il dirigente Scacchioli ed il direttore sportivo Fabio Lupo. E poi il Lanciano Virtus dentro o fuori. Ora serve la svolta, bando per salvare la Serie D, ma urge il sì degli imprenditori. La situazione del Lanciano si fa ora dopo ora, sempre più difficile. È chiaro che ora a questo punto bisogna arrivare a qualcosa di concreto per regalare almeno ai tifosi rossoneri la Serie D, dopo la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro. Ed intanto gli ex della Virtus si accasano, Di Francesco e Boldor sono già del Bologna. Vitale e Rigione vanno a Cesena. E poi andiamo avanti, parliamo di Serie D e parliamo delle Chieti e anche delle altre formazioni di Serie D. Il prossimo anno saranno sei, anzi ci auguriamo sette. Se così sarà anche per il Lanciano, visto che ormai è certa l'esclusione dalla Lega Pro, dicevo ci saranno tanti abruzzesi in Serie D, ma ci sono problemi non solo a Lanciano ma anche a Chieti, perché Pomponi, vedete il titolo qui del centro, gela il Chieti e dice non iscriverò la squadra. La società, leggiamo il risvolto di questo articolo, verso il Baratro, cessione entro nove giorni o si perde la Serie D. Le domande sono sotto esame. Il 28 luglio deciderà la Covisoc che esamina i bilanci, le iscrizioni e le documentazioni delle società di Serie D. E dunque, vediamo a proposito di Serie D cosa accade per le altre squadre. Il Pineto neopromosso c'è, si riparte dalla vecchia guardia contro la rovescia per l'inizio della preparazione. In difesa arriva l'ex Pescara, Micolucci. E poi l'Aquila dà la caccia agli uomini gol, l'altra squadra che parte con i fadovori del pronostico nel prossimo campionato di Serie D. Ganci e Russo verso la firma. Il 28 partirà il ritiro dell'Aquila a Campo Felice. Ci spostiamo a San Nicolò che punta in alto con Bisegna. La società vuole allestire una squadra forte, altri colpi in arrivo. E tra poco ci sarà il ritiro di Castel del Monte per i biancazzurri allenati da Massimo Epifani. E poi l'Avezzano, altra squadra che mira in alto. Il presidente Pari si dice che vogliamo battere l'Aquila. È già derby, ovviamente derby molto sentito, quello tra Avezzano e l'Aquila. Non scopriamo assolutamente nulla. Il patron annuncia nuovi acquisti. In porta dal Crotone arriverà Lewandowski, che ha un cognome importante come quello di uno dei giocatori più forti al mondo, in forza al Bayern Monaco, ma si tratta ovviamente solo di omonimia. In basso, Lavastese, altra formazione neopromossa ma che mira in alto, cerca i rinforzi per la svolta. I biancorossi si muovono per un centrocampista di peso. De Filippis, direttore sportivo, dice so cosa fare. Andiamo ancora avanti. Parliamo di calcio regionale. Vitale, ex Chieti, va a Paterno. Arciprete alla Miternina. Poi parliamo del Giulianova, che riparterà dalla promozione. Giulianova che ha presentato Fuschi ed insegue la punta Tarquini. Vediamo anche in basso, San Buceto ingaggia Vaccaro, Di Carlo e Spinello. Anche scatenata la formazione della Folgore San Buceto. Vediamo ora, parliamo di motori. L'abruzzese Iannone, quinto nel moto mondiale per quanto riguarda il Gran Premio di Germania. Settebello, Marquez, delusione, Rossi. Andiamo ancora avanti. Siamo al ciclismo, alle manifestazioni che la domenica accompagnano la nostra regione. Leon e della Rocca, mani basse, arrivi Sondoli. Il colombiano stravince, la Marabruzzo, Bike Marathon. Nel gran fondo, Fragassi e secondo. E poi Magli in volata, sbaragliato tutti nel trofeo città di Santonofrio. E poi calcio a cinque. Invece in basso, José Ruiz dice, l'acqua e sapone è perfetta per me. Parla la stella spagnola del futsal in arrivo a Montesilvano. Decisiva la presenza, ha detto Ruiz, di Lima e Fuentes. Dunque ecco il sapone che parte la prossima stagione sicuramente per fare meglio dell'ultimo torneo. E siamo al basket, alla pallacanestro di serie A2, con le abruzzesi Roseto e Echieti che sono in pieno mercato. Roseto corteggia a Casagrande, Raidonic e Corral. Govens tentenna, Echieti dice no. Sfuma invece la trattativa. Il DS Brandimarte, DS Tiatino dice, colpa del suo procuratore. Continua la campagna. Abbonamenti. Invece a Roseto tre pedine per affiancare il Neo Play Fools che è stato già tesserato. Di Paolo Antonio dice, mercato maturo per operare al meglio. Andiamo a vedere anche le notizie che riguardano le altre formazioni di serie B di pallacanestro che parteciperanno alla prossima stagione, giocheranno nel torneo cadetto. Partiamo dall'amatori Pescara. L'ex Giulianova, Matrone, possibile rinforzo. Per il Campi piacciono Gatti e Salafia. Montuori farà parte dello staff Farnese. E poi Ortona, reparto lunghi, saltano le piste Bei e Gambolati. Infine Giulianova riconferme ad un passo per Gallerini e Cianella. E chiudiamo per quanto riguarda le pagine dello sport del centro con l'atletica leggera. Quella di ieri è stata una giornata importante a Pescara perché lo stadio adriatico ha ospitato il meeting internazionale Giovanni Cornacchia. E nei 100 metri, scusate, la spunta Guidetti, Bonaduce, nuovo record. E poi Sinisi con l'asta vola sui 5 metri e vince nel lungo Ruffilli. E il Re nei 400 metri, ottimo bronzo per David con primato personale. E poi parliamo della gara podistica di Tocco da Casauria. In mille alla notturna Toccolana. Infine il rugby. Neroverdi si parte con i test fisici. Nella rosa si affacciano Palmisano ed Antonelli. In partenza Flammini. L'ultimo titolo dello sport del centro riguarda il softball. L'Atomschietti in equilibrio verso la chiusura al terzo posto. E dalle pagine del centro dello sport passiamo alle pagine del messaggero. Ovviamente ripartiamo dal Pescara. Pescara si riparte dal gioco. Questo è il titolo del messaggero. In attesa di completare l'organico con giocatori determinati. Oddo è pronto a riproporre anche in Serie A la sfida della qualità. L'impatto con la categoria superiore è un'incognita. Finora un buon mercato ma forse può servire. Più fisicità, liste bloccate. Ecco come cambiano gli organici. E poi lo abbiamo visto anche dal centro. Vacanze finite per il capitano Memushay che è arrivato in ritiro. E poi la Roma lascia casa Gionberg. Oggi la firma, il difensore slovacco, non è stato convocato per le amichevoli negli Stati Uniti. Dunque Pescara pronto ad approfittare per mettere nero su bianco. Poi a proposito del Pescara, noi andiamo ad ascoltare nell'intervista il difensore Andrea Coda che, reduce da un infortunio, si ripropone per la prossima stagione con grandi ambizioni. Un Pescara che si potrà valere anche delle prestazioni di Andrea Coda. Lo scorso anno non è andata bene per via di questo infortunio che ti ha messo praticamente fuori gioco all'inizio della tua nuova avventura in biancazzurro. Hai gran voglia di riscattarti e di dimostrare di essere un giocatore all'altezza della Serie A del Pescara? C'è stata questa rottura, questo strappo di più o meno 7 centimetri. Abbiamo cercato in tutti i modi, con staff e dottori, di rientrare per i play-off, ma forse è stato meglio così perché comunque non siamo andati incontro a una ricaduta che magari dovevi ristaffermi altri mesi e quindi abbiamo preferito farla chiudere nel miglior modo possibile di lavorare con più tranquillità in preparazione, magari a un carico non proprio al 100%, con un lavoro graduale man mano che passano i giorni, però ecco di essere a disposizione, di contare di essere alla fine del ritiro con più gamba sicuramente. La difesa sarà sicuramente il ruolo più sotto pressione nel prossimo campionato, ci sarà bisogno di tutti e Andrea Coda, grazie anche alla sua esperienza, è pronto a dare una mano ai più giovani? Certo, come ho detto anche all'altra televisione, Pescara merita questa categoria perché come ho detto prima, poche volte mi è capitato in carriera di avere un attaccamento, un calore come ho vissuto i tre giorni dei festeggiamenti o come siamo arrivati dall'ultima partita anche di campionato o nelle partite dei playoff che arrivi ad avere 20-22 mila persone allo stadio è una cosa che in poche realtà hanno, quindi sicuramente noi cercheremo di onorare nel migliore dei modi la categoria fino all'ultima giornata, poi più o meno si aggira intorno sempre ai 40 punti, 2-3 punti più, 2-3 punti meno, ogni anno cambia, però più o meno noi dobbiamo arrivare a 40 punti. Queste le parole di Andrea Coda, difensore del Pescara che abbiamo ascoltato a Palena parliamo del Teramo, Croce, Teramo voglio lasciare il segno, sono qui grazie al lupo e voglio ripagare la fiducia, son di gol, ma il patron Campitelli non si ferma e dopo l'arrivo di Forte, che praticamente cosa ha fatto? Luca Forte, attaccante del Pescara piace Torregrossa, l'ex bomber di Crotone e Trapani, potrebbe essere l'attaccante giusto da regalare proprio al tecnico Zauli e tra gli attaccanti invece è più difficile arrivare a Zigoni e Di Carmine. Andiamo a vedere il calcio di serie D, l'Aquila e Chieti in particolare l'Aquila vuole pure Minincleri, nelle prossime ore l'ok dell'esterno, il suo arrivo chiuderebbe la strada all'ex Chietino Fiore e a proposito di Chieti, Pomponi, lo abbiamo visto anche prima, si fa da parte, Chieti verso il Baratro, il club rischia di non essere ammesso al campionato e siamo al basket, Fulz riabbraccia Rosetta, una scelta di cuore, dice il neo Biancazzurro e poi la Proger Chieti dopo la beffa mette gli occhi su Spurlock, più difficile arrivare ad Arrow mentre sfuma il ritorno di Lelo Hatch. Per quanto riguarda invece il basket di serie B, Sorgentone il vincente riparte da Bisceglie, Domenico Sorgentone allenatore abruzzese veterano nei campionati di serie B a proda sulla panchina della formazione pugliese. Andiamo a vedere in basso altri titoli che riguardano la pallacanestro, Giulianova vicino a Colonnelli e Dorsini, Giulianova che parteciperà al prossimo campionato di serie B come le altre abruzzesi che abbiamo visto, Pescara, Ortone e Campli e poi basket giovanile inizia al Palamaggetti di Roseto, il trofeo Ministar. Proseguiamo, ancora pagina di sport dal messaggero, il ciclismo in particolare il Matteotti di cui abbiamo già parlato, l'Azzurro Albanese vince la 69esima edizione della corsa della classica pescarese, delusione per Ciccone, l'abruzzese che aveva vinto una tappa al Giro d'Italia frenato da problemi meccanici e poi motociclismo, moto mondiale, Iannone V in Germania diceva bene così e poi Gianni Rivera incanta la platea del trofeo Rocky Marciano che si è svolto sabato sera a Ripa Teatina. Andiamo a vedere altri titoli che riguardano il calcio e il rugby, calcio di eccellenza, la miternina del nuovo tecnico di Corcia ingaggia l'attaccante Tramontano dal Rieti, poi per quanto concerne invece il rugby, l'Aquila nell'organico ritorna c'era soli, conferma per la seconda linea Flammini. Andiamo ancora avanti, sono terminate però le pagine dello sport del messaggero, dunque possiamo fermarci qui per quanto concerne il primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, a me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione, ringraziare Gianni Dareo in regia, ricordarvi come sempre il prossimo appuntamento informativo della giornata con la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14. È tutto davvero, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.